Sono sempre nella stessa fungaia di prima, da un lato sono neri, dall'altro ci sono gli stivalis. Eccolo qua uno. Due. Tre. Due cinque. Vediamo se ce n'è qualcun altro. No, lì ci sono, se riuscite a vederli. Entoloma lipidum. Forte odore di farina. Caratteristiche. Il campo grosso alla base. Più assottigliato verso l'alto. Le lamelle, inizialmente giallastre, poi diventano rosa a maturità. Ok. Ciao ciao. 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 Ciao.